Uomini e donne shock, Teresa Langella e Andrea, matrimonio rimandato? Un'esplosione di emozioni, di promesse e di amore. Teresa Langella, l'ex tronista di Uomini e Donne, aveva condiviso con il mondo la sua gioia attraverso un post commovente, annunciando il suo imminente matrimonio con Andrea dal corso. Le parole erano un tripudio di felicità e di speranza, un manifesto del loro amore destinato a durare per sempre. Ma come spesso accade nella vita, i piani possono cambiare, e così è stato anche per Teresa e Andrea. Quel sogno di matrimonio perfetto ha subito un improvviso rallentamento, gettando un'ombra di incertezza sul loro futuro insieme. Teresa ha condiviso sui social media la sua preoccupazione, non aveva ricevuto il sacramento della cresima, un ostacolo imprevisto che ha bloccato temporaneamente i loro piani per un matrimonio religioso. Questa inaspettata complicazione ha portato con sé una serie di riflessioni e di interrogativi sulla direzione del loro rapporto. Tuttavia, nonostante le delusioni e le incertezze, c'è ancora amore tra loro. Teresa e Andrea sono una coppia forte, che ha superato molte sfide nel corso della loro relazione. Dal momento in cui lui non si presentò al loro primo appuntamento, fino ad oggi, hanno dimostrato di essere uniti da un legame indissolubile. La loro storia d'amore è stata un viaggio tortuoso, fatto di alti e bassi, ma ha sempre saputo resistere alle tempeste. Teresa ha creduto nell'amore di Andrea anche quando sembrava che tutto fosse perduto, e lui ha dimostrato il suo impegno nei confronti di lei nel momento in cui ha deciso di tornare indietro e riconquistarla. Quindi, anche se il matrimonio potrebbe slittare per un po', c'è fiducia nel fatto che il loro amore prevarrà su ogni ostacolo. Insieme, Teresa e Andrea hanno dimostrato di essere una coppia destinata a durare, pronta ad affrontare qualsiasi sfida che il destino ponga sul loro cammino. Che sia un sacramento religioso o una semplice formalità, il loro legame è ben più profondo di qualsiasi cerimonia possa rappresentare. Amici, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e contenuti. Cliccate su iscriviti e segui adesso per non perdere nulla di interessante da noi. Grazie per il vostro supporto.